La morte indiretta questa volta arriva dal cielo. Migliaia di persone assistono all'incidente che vede scontrarsi in volo nei cieli di Rammstein in Germania tre aerei delle frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell'aeronautica. Dopo lo scontro a bassissima quota, gli aerei piombano in fiamme tra la piazza. È strage, 51 morti e oltre 400 per ieri. In Italia è subito polemica, ma per il ministro della difesa le frecce continueranno a volare anche in situazione. Andi! Andi!